Silvio Berlusconi condannato per la prima volta in appello. I giudici di Milano hanno confermato la pena a quattro anni di reclusione per frode fiscale stabilita in primo grado nel processo sulla compravendita dei diritti televisivi Mediaset. Quattro anni ridotti a uno per effetto dell'indulto. Confermata anche l'interdizione dei pubblici uffici per cinque anni che toglierebbe a Berlusconi il seggio in Parlamento. Una pessima sentenza assolutamente annunciata e noi eravamo da sempre convinti che questa sarebbe stata la decisione della Corte d'Appello e adesso faremo ricorso per Cassazione. Confermata inoltre la provvisionale di 10 milioni di euro che l'ex premier dovrà versare all'agenzia delle entrate in solido con altri tre condannati. Assolto invece il presidente di Mediaset fedele con falonieri. Secondo i giudici Berlusconi ha gonfiato il prezzo dei diritti televisivi e cinematografici acquistati da Mediaset presso le major statunitensi e ha costituito fondi neri all'estero. Una sentenza che arriva dopo quasi 10 anni di indagini. Il procedimento cade in prescrizione a luglio del prossimo anno.